Benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud, io sono Mattia e in questo nuovo video vi racconto quello che sta succedendo in Corea e quello che va avanti un po' da alcuni mesi. Come era titolo vedremo del crescente odio tra Corea e Cina, vi racconto un po' più nel dettaglio di cosa si tratta. Se qualcuno è curioso invece per quanto riguarda Corea e Giappone, continuano a esserci dei problemi che stanno portando sempre più al deterioramento della, diciamo, diplomazia coreano-giapponese e per chi è curioso, come tutto ciò abbia avuto inizio, c'è un video in cui lo spiego anche con i TG coreani e vi spiego il perché Corea e Giappone litigano, ma oggi vi voglio raccontare un po' di quello che è successo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi in Corea, anche negli ultimi giorni. E per chi è nuovo, benvenuti. In questo format vi propongo un po' a fatterello, un po' abbastanza serio, però non troppo pesante, dandovi magari anche qualche opinione d'italiano che vive in Corea, di quello che succede, vi racconto di quello che succede appunto qui in Corea, magari ve lo spiego anche a livello culturale. Quindi andiamo avanti con questo TG e parto con la questione ai vaccini, che molti di voi continuate a chiedermi in privato anche su Instagram. Allora, i vaccini in Corea si è molto indietro con la campagna di vaccinazione rispetto all'Italia. Ora, c'è da dire che la Corea rispetto all'Italia, come già detto e riletto nei video precedenti, viaggia con un numero di infetti giornalieri decisamente più scarso rispetto all'Italia. Se in Italia c'erano 10.000-30.000 casi al giorno, in Corea c'erano 10.000-50.000 è la notizia, e che negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, si viaggia tra i 300 e i 600 casi giornalieri in tutta la nazione, che fa comunque 55 milioni di abitanti. Allora, perché la vaccinazione in Corea è dietro? Il mio pensiero, da non virologo, ma un po' di logica, è che il governo coreano innanzitutto abbia appunto fatto il contratto principalmente con AstraZeneca, che come sapete, oltre ai disagi generali delle notizie su eventuali presunti morti o meno, è anche dietro con la consegna dei vaccini. Stessa cosa per Moderna e altre aziende con i quali la Corea continua a fare dei contratti, anche per produrli qui in Corea. E quindi, considerando un numero di contagi decisamente minore rispetto al resto del mondo, la campagna è iniziata più tardi e, diciamo, in modo più lento. Poi, se volete sapere se effettivamente i coreani hanno paura o meno del vaccino, la risposta è nì, nel senso che sì, c'è una certa percentuale di persone che ha paura, ma altrettanta no. E vi posso garantire che, se fino a qualche settimana fa non conoscevo nessuno che si era vaccinato in Corea, adesso ho sentito più persone ultra-sessantenni, ultra-settantenni, che si sono vaccinate e sono tutte ancora qui con noi, quindi tutto va bene. Senza contare che in Italia si è vaccinata quasi mesela la popolazione, tutti i miei familiari, i over 50, i miei genitori, i nonni, eccetera, sono già vaccinati. Non è successo nulla, è dispiacevole. Poi, se vogliamo dire che la notizia di un caso, di qualche caso, di presunta morte relativa al vaccino, quando magari in realtà non ci sono le prove e può essere tutt'altro, fa più notizia, beh, è semplice che queste notizie fassino più notizia perché, scusate nel gioco di parole, poi ormai il click è quello che conta di più anziché l'informazione, quindi qualsiasi testata ormai butta queste notizie così senza approfondire e causa panico. Alcuni giorni fa ho ricevuto il messaggio che i sessantenni, gli ultimi sessantenni, si possono prenotare entro i primi di giugno per il vaccino, altrimenti devono aspettare fino a ottobre o novembre. Come ulteriore incentivo a farsi i vaccini, si parla che, si dice che, cioè ufficiale, in realtà da luglio chi si è vaccinato non debba portare la mascherina in luogo pubblico e allo stesso tempo si è già diffusa la notizia alcune settimane che i coreani già vaccinati che eventualmente escono fuori dalla Corea e rientrano in Corea non sono soggetti a quarantena obbligatoria, ma a, diciamo comunque, dar conto delle loro condizioni per essere monitorati. Poi, sempre per chiarezza di informazione, alcuni giorni fa c'è stato il primo caso in Corea di persona vaccinata che comunque ha avuto positività al coronavirus a due settimane dopo dalla seconda dosa del vaccino. Non ho letto, non ho trovato informazioni riguardanti il tipo di lavoro o la tipologia di persona, ma solamente che fosse ventenne. Quindi, considerando che, rispetto all'Italia, che ha vaccinato quasi metà la popolazione, la Corea ha vaccinato solamente l'1,3 o l'1,5, quindi un poco più di un milione di persone su 55 milioni, quello che mi viene da pensare è che questa persona possa essere o immunodepressa e quindi abbia avuto il vaccino in anticipo, oppure che si tratti di un dottore, infermiera, staff o spereliero che magari per forza di cose è più soggetto a essere a contatto con pazienti e quindi ricordiamoci che un vaccino è un vaccino e non un antidoto a un veleno, quindi può essere efficace come meno o comunque può ridurre gli effetti di contrarre il virus magari in forma forte. Poi, se c'è qualcuno che comunque dice, ma comunque tu non dici che i vaccini sono rischiosi, e ragazzi, i vaccini esistono da sempre e molti di noi arriviamo a sopravvivere a dei tagli perché ci siamo vaccinati, perché altrimenti, tanti anni fa, si passava a miglior vita anche con un taglietto, un'infezione. Quindi, parlando poi sempre di Gino e Corea, cosa sta succedendo? Perché Gino e Corea sono, diciamo, ai ferricorti? In realtà è una lunga storia. Se da una parte il governo coreano dipende molto dalla Cina, come molti governi, anche il nostro alla fine, se ci pensiamo, l'italiano, perché la Cina comunque, quanto l'America, è una grande nazione con una grande influenza, in Corea, diciamo, in buona parte della popolazione comincia a lamentarsi e criticare spesso degli atteggiamenti o delle situazioni che coinvolgono la Cina e la Corea. Allora, quello che è successo è che sostanzialmente da alcuni mesi alcuni siti di notizie cinesi avrebbero iniziato a diffondere notizie secondo le quali il kimchi è un prodotto cinese e non è un prodotto tradizionale coreano, che l'hambok, il vestito tradizionale coreano, non è in realtà coreano ma è cinese. Può darsi che è lontanamente, se è successo qualcosa, ma questo sto provando a giustificare eventuali, diciamo, reclami da parte della Cina, che alla fine se è una... anche noi abbiamo i sottaceti, ora il kimchi è un cavolo messo stagionato, sottaceto, con determinati... col pepe, con una determinata procedura, può darsi anche che in Cina producano qualcosa di simile o un altro tipo di cavolo, un altro tipo di pietanza in modo simile ma non è kimchi. Quindi, stateci, non sono la stessa cosa. E ovviamente anche i cittadini coreani si sono lamentati, stessa cosa per il vestito tradizionale. Fermo restando che ho sentito buona parte dei miei amici del sud-est asiatico e comunque sia anche i vestiti tradizionali di altre nazionali. A quanto parla la Cina dice che vengono da loro. Quindi, diciamo, è una cosa che dichiarano spesso. Quindi, oltre a questa cosa, poi è successo che molti cittadini coreani hanno notato che durante, alcuni drama venivano pubblicizzati dei prodotti cinesi e dei cibi cinesi e quindi anche lì hanno deciso di lamentarsi e eventualmente queste scene sarebbero state poi tagliate da parte della produzione e non mandate in onda anche all'estero, per esempio. Quindi perché la Cina ha anche un'influenza al di là del potere politico anche a livello di pubblicità, pagano effettivamente, c'hanno i soldi e eventualmente cercano poi di fare pubblicità a determinati prodotti e il che ha creato, diciamo, lamentere da parte dei netizens coreani. Un'ulteriore notizia che coinvolge Cina e Corea è il fatto che a marzo hanno iniziato a circolare dei video dove, ah, perché è una cosa che non vi ho detto, dovete far presente che il kimchi è molto consumato in Corea però non tutto il kimchi che si consume in Corea è prodotto qui ma buona parte è prodotto anche in Cina e poi importato dai coreani. Che è successo? Ha circolato questo video di un uomo apparentemente nudo che sguazza e nuota all'interno di una grande vasca piena di cavoli. Dopo questo video molte persone hanno cominciato a criticare diciamo l'igiene dei cinesi, il fatto che la Corea importi dalla Cina e che queste siano le condizioni e che il governo ha iniziato a fare dei controlli e apparentemente ha trovato che su diverse tipologie di kimchi importate dalla Cina è presente un tipo di batteri o di quelli che causa infezioni intestinali come scheria coli e altri batteri coli che generalmente stanno nello stomaco dell'uomo o nelle feci. Non si tratta di tutti i kimchi, ovviamente ci saranno delle aziende perché sono veramente tante, ci saranno delle aziende che seguono le regole etiche e di igiene però 15 tipologie di kimchi su una sessantina sono risultate infette in un'ispezione quindi potete immaginare quante altre magari già siano andate in mercato queste qua è stato specificato che sono state bloccate in Dogana prima ancora che venissero distribuite però da anni che importano alla Cina quindi figuratevi perciò in futuro pare che faranno più controlli del genere mentre un controllo curioso per tutti quelli che pensano a Corea sia il paese dei balocchi è che il governo per un anno ha fatto le analisi degli scarichi fognari e ha trovato nelle acque particelle, quantità abbastanza importanti di metanfetamine, cocaina, estasi e varie tipologie di droghe il che appunto ha fatto presumere che effettivamente in Corea circoli la droga che non è una novità ora hanno detto anche che però con le pioggi forti può darsi che loro hanno cercato di fare, di considerare eventualmente il consumo per capita quante persone possono consumare in base alla tipologia, alla statistica la percentuale di droga rinvenuta nelle acque però hanno detto che le forti piogge hanno anche potuto condizionare i risultati perché magari effettivamente qualcuno le ha scaricate e basta nelle fogne o comunque sia magari appunto non si tratta solamente di quello che è stato consumato ma di allagamenti che hanno raccolto nelle acque anche, non so, qualcosa dai magazzini vabbè, quindi appunto esiste anche qui non è una novità per me perché non ho il prosciutto sugli occhi però succede quindi con questa notizia non voglio dire non venire in Corea figuratevi io, cioè, da Calabrese quante volte al porto di Zoyetauro fermano i container con tutto quello che arriva dalla Colombia, dal Sud America o sappiamo benissimo l'influenza dell'andrangheta anche in tutta l'Europa, non solo in Italia quindi non sto qui a fare la morale è semplicemente per dire ragazzi e ragazze visto che so che da poco tempo forse anche qualcuno di più piccoli mi guarda venite qui, studiate, divertite, tutto quanto ma fate attenzione e non pensate che sia il paese dei balocchi quindi, poi, mi sembra che per oggi è tutto non ho altri commenti da fare per il momento spero il video vi sia piaciuto fatemelo sapere con un commento aiutatemi a far crescere il canale con un mi piace e una condivisione se volete supportarmi potete farlo anche con un caffè trovate le informazioni in descrizione un saluto e alla prossima iscriviti al canale iscriviti al canale